Francesco Modesto, soddisfatto? L'Atalanta vince questa partita contro il Trento, una partita dura, combattuta, poi l'episodio che gira a favore dell'Atalanta. I ragazzi si si sono comportati bene, potevamo fare molto meglio a livello tecnico, però tante volte magari il campo non ce lo permette sia da una parte che dall'altra, il primo tempo è calata la nebbia e dalla panchina si vedeva ben poco e quindi la partita ha preso una piega poi dopo il secondo tempo dove loro non hanno creato quasi nulla, però noi siamo stati bravi a tenerli nella metà a campo loro, poi l'episodio sul calcio d'angolo l'abbiamo sbloccata e alla fine l'abbiamo portato in porto. Sono contento per i ragazzi, per l'impegno che ci metto, ma questa partita c'è di buono della sofferenza magari di capire pure che partite sono per fare punti. Per fare punti avete iniziato il girone di ritorno con due vittorie, nel girone di andata la prima era stata una sconfitta un po' così contro il Verona e avevate colto il vostro primo punto storico sul campo del Trento. Si aspettava di partire così Francesco adesso nel girone di ritorno? Di solito mi capitava spesso che dopo rientro delle vacanze e natalizie la squadra non tornasse mai con la testa giusta, un po' sbagati, poi comunque una squadra molto molto giovane, pensavo che abbassavano un po' il livello e invece ho ritrovato una squadra che si sono allenati a casa, hanno fatto un buon lavoro, in più dal primo giorno che ci siamo messi a lavorare, hanno dato subito l'impressione che ci vogliono stare e stare sul pezzo. Poi è normale quando fai due vittorie di fila vuol dire che hai migliorato qualcosina, dietro comunque adesso siamo molto solidi, dobbiamo migliorare lì davanti perché secondo me con gli attaccanti che abbiamo possiamo fare qualcosa in più. Grazie. Grazie. Grazie.